Benvenuti in questo nuovissimo video Ragazzi oggi sono qui per dirvi una cosa veramente veramente importante Allora, 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 allora Partiamo con il primo punto Perché faccio questo video? Perché invece ho fatto che vi devo dire una cosa appunto importante Ed è doveroso dirvela Allora, come saprete Io ho accumulato più visualizzazioni e iscritti Grazie alle live, giusto? Le live sono quel mezzo che ti permette di Interagire con i tuoi iscritti e non Tramite appunto una live streaming Ovvero in diretta su YouTube In questo caso non subito perché non mi piace Twitch Non so solo YouTube In ogni caso raga, oggi sono qua per dirvi un altro tipo di cosa Allora, a me Diciamo che piace sì fare le live Ed è una cosa bellissima interagire con tutti voi Però, però, però ragazzi C'è un però Non mi piace tanto fare le live Su un gioco dove potrei sfruttare Molti di più potenzialità Cosa voglio dire con questo? Allora Non so se avete presente Chi mi segue da tanto Sa che io Grazie appunto agli NPC Posso sfruttare appunto questo Per mettere Diciamo su GTA Che è il gioco che vi sto portando adesso Una grafica molto più bella Mod differenti Appunto tutto nel single player E appunto Diciamo Mod generali Di personaggi Di macchine Di grafiche Appunto Di autoreali Di vita reale E di tutto il resto Cosa che adesso non voglio fare Però Comunque Mod veramente veramente belle E significative insomma No E raga Ora che praticamente Mi hanno sbannato E che sto facendo live Di unbann Questa voglia Che Avevo prima Di portare GTA Online Mi sta un po' svanendo Questo perché alla fine GTA Online È una cosa momentanea Per questo raga Io vi invito A scrivervi qui sotto Nei commenti Se vi va Di vedere magari ancora Live streaming O video Per quanto riguarda GTA 5 a modo Con grafiche assurde Come la Redux La Redux appunto O tutto il resto Stellar V O comunque Altre grafiche autoreali E molto E molto altro ancora Però fatte a modo mio Quindi non come le fanno gli altri A modo mio Che appunto I progetti arriveranno Ragazzi Ve lo assicuro Raga Diciamo che questo era un po' il video Un video molto corto Per riassumere Quello che mi piacerebbe portare In futuro su questo canale Le live streaming Su GTA Online Dando soldi E demoni e lobby Ci saranno lo stesso Ma meno frequentemente Rispetto a prima Spero mi capiate Mi raccomando Non voglio Non voglio offendere nessuno Davvero Comunque raga Veramente Io spero mi capiate tantissimo Spero che questi comunque video Vi piacciono Che appunto Porterò in futuro Che le live appunto Che porterò in futuro Perché secondo me raga Meritano davvero tanto Perché quando hai la possibilità Di far qualcosa Che magari Qualcun altro non può fare Beh raga Io Diciamo che Mi piace Sfruttare Se io ho comprato Un pc potente Non voglio sfruttare Questo pc potente Non voglio Tenermi un pc potente Per niente Perciò raga Quello che vi chiedo è Segnarmi nei commenti Se vi va Questa idea Ovvero se io Appunto Posso appunto portare Anche grafiche belle E magari alternare Appunto live Tra money lobby E Cazzeggio O magari non cazzeggio Che ne so raga Possiamo anche parlare Di girarti con le auto fighe Di provare nuove macchine Nuovi motori Nuovi sound Nuove grafiche Ragazzi Provare tutto In prima persona Insomma No Come si suol dire Insomma E quello che vi chiedo appunto Ragazzi Di scrivervi sotto nei commenti Ma soprattutto raga Fatemi sapere se vi interessa Avere nuove serie Su questo canale Parliamo di Easter egg Miti Misteri Magari che ne so Progetti Per quanto riguarda Anche online Progetti per quanto riguarda Altri giochi Un giochi che vi piacerebbe Vedere su questo canale Che ne so H1Z1 Player Battlegrounds O come si chiama Come si chiama raga Non mi ricordo più Vabbè lasciamo stare Comunque quello lì Che non ho mai giocato Insomma E niente Fatemi sapere Che giochi vorreste vedere Se vi piacciono Giochi horror Giochi di reward Giochi arcade Giochi Da di corsa Giochi di sparatutto Quello che volete ragazzione Insomma Pantascienza Comunque raga Grazie mille di cuore Per il traguardo Dei 1700 iscritti Grazie mille Youtube che ci promette Di fare live Grazie mille ragazzi No scherzo A parte di scherzo Grazie mille a voi Per questo traguardo E niente Puntiamo sempre più in alto E ragazzi Mi raccomando Condividete il video Mi raccomando Se potete iscrivervi Al canale Che vi fate veramente Un grande favore E lasciate un like Qua sotto Che non costa niente Dovete cliccare solamente Quel bottoncino Che con il pollice in su Mi raccomando Niente ragazzi Di qui Blade Ti sentiamo Alla prossima live O al prossimo video E ciao Bella 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 Ciao Ciao Grazie a tutti. Grazie a tutti.